Ben arrivato direttore, posso dire così? Ben ritrovato Claudio Casorati. Abbiamo un sottofondo un po' particolare, quello del salone, di una stanza importantissima nel centro di Padova e abbiamo dei giornali davanti, quindi che cosa vuol dire? Che siamo in versione redazione giornalistica. Esattamente, noi con questo nuovo ciclo di trasmissioni vogliamo un po' raccogliere dalla piazza e in questo caso il titolato punto dove la piazza si ritrova volentieri ogni sabato mattina è sicuramente il salone di Padova, che è in piazza della Frutta, mi pare, o in piazza dell'Erbe. Divide a metà. Ambe le due piazze molto caratteristiche, molto belle, della nostra città e qui ovviamente raccoglieremo durante la giornata di sabato quelli che sono alcuni dei titoli che durante la settimana sono stati pubblicati dai vari quotidiani. Diciamo che abbiamo un'inviata di eccezione che ci dà una mano a raccogliere queste impressioni tra la gente. Che è Alessia Nincetto. Come si chiama? Alessia Nincetto. Alessia Nincetto che con il microfono e la sua simpatia andrà a raccogliere le opinioni dei telespettatori ma soprattutto della gente comune che appunto frequenta il centro cittadino di sabato mattina. Ecco, una delle cose che succede il sabato è che la gente non è preparata perché adesso scopriamo che la gente davvero non lo legge molto il giornale perché certe notizie le conosce ma sono un po' le stesse del Tg altre invece che noi troviamo al centro dei quotidiani magari non sono pronti a rispondere allora è lì che li becchiamo. Dobbiamo dire che i giornali effettivamente in questo ultimo periodo vuoi l'avvento di internet, vuoi poi il dominio della televisione e delle radio è passato un po' in sordina nel senso che diventa forse il quarto o quinto mezzo di comunicazione ma soprattutto diciamo un'attenzione molto distratta a quelli che sono i temi all'interno delle pagine piuttosto che quelli che vengono riportati poi nelle locandine e appiccicate durante la settimana nelle edicole. E lì vorrei spessare una lancia secondo me c'è qualcuno che gli occhiali dovrebbero procurarseli ma siccome li lascia in ufficio e scappa a bere il caffè senza l'occhiale legge solamente i titoloni e non va a guardare le cose più piccole. Ma perché è più facile anche perché non abbiamo molto tempo la gente comunque è sempre di corsa probabilmente durante la settimana e il momento di riflessione proprio si addice durante il sabato mattina e fa bene la nostra inviata a portarsi dietro il titolo del giornale da cui poi si scaturiscono le varie domande e soprattutto anche le risposte della gente che raccogliamo per strada. Ecco noi qui abbiamo anche degli esempi però volessimo fare noi un commento per esempio se domandano al direttore truffa da 2 milioni ginecologi nei guai. Devo dire che questa è una situazione abbastanza intricata che vede coinvolti due ginecologi padovani che sono accusati dalla Guardia di Finanza di aver diciamo così usato dei sotterfugi per raccimolare questi 2 milioni ai danni ovviamente della locale USL ma in questo caso anche allo Stato perché poi comunque si ritorna alla truffa nei confronti dello Stato. Per la gente della piazza questa è la dimostrazione che la gnocca costa e mette sempre nei guai cosa vuole che le dica? No invece sarebbe stato anzi sarebbe bello raccogliere quest'altra provocazione io farei una domanda provocatoria non sono sposati ma divorziano allora se non sono sposati come fa uno a divorziare se non è sposato e soprattutto viene applicata anche in questo caso dalla giustizia un nuovo modo di pensare se vogliamo per le coppie di fatto cioè la figlia viene affidata ad entrambi i genitori seppur non sposati seppur non avendo certificato la loro unione. Ecco le famose coppie di fatto che possono essere certificabili non tutti i comuni lo fanno e anche lì ci sarebbe da aprire qualche bel capitolo. Sì sì ma a me ha colpito molto questo fatto non sono sposati ma divorziano diciamo che in realtà non è proprio così non sono sposati ma si lasciano e questo era forse il titolo più corretto si allontanano si allontanano ma resta sempre il problema poi centrale che tra i due è nata una bambina e questa bambina comunque deve essere assolutamente tutelata e a tutelarla ci ha pensato appunto ancora una volta il giudice che ha sopperito ad una carenza legislativa prendendosi la responsabilità di affidare ad entrambi i genitori la figlia appunto di cui stavamo parlando ecco una delle cose che sicuramente Alessia non farà sarà quella di andare a portare provocazioni a livello politico perché purtroppo è già un terrore parlare di politica in ogni luogo perché nei bar si parla di politica a casa sul lavoro si parla solo di politica noi quando Alessia vi verrà a trovare nelle piazze sicuramente di quello vi lascia in pace vi porto le notizie un po' più fresche un po' più belline che non siano scontate perché sulla politica sicuramente è preoccupante è una notizia che invece in questi giorni sta popolando un po' le prime pagine dei giornali locali ed è questa serie di omicidi che vengono perpetrati una volta ai danni del padre una volta ai danni del figlio una volta ai danni della ex comunque c'è un Veneto che in qualche maniera comincia a essere un po' troppo nervoso per i miei gusti però probabilmente mi posso anche sbagliare però mi pare che il nervosismo in questi ultimi tempi in Veneto sia davvero davvero cosa abbastanza usuale e questo credo che si rispecchia anche in altre parti d'Italia e ci sono sempre più grossi problemi perché la crisi la mancanza di denaro purtroppo nelle famiglie si riflette perché quando non ci sono i soldi ragazzi si fa facilmente un litigio importante mentre invece se no i litigi sono sì vabbè uno si allontana adesso non si allontana ma si allontana solo il tempo di prendere la pistola e poi spara ahimè però io direi che a questo punto possiamo dare voce proprio ai nostri telespettatori e soprattutto a voi che siamo riusciti a raccogliere durante questo sabato di possiamo dire un sabato di paese un sabato del villaggio del villaggio che insomma ci dà qualche sua impressione sui temi che appunto abbiamo portato a loro conoscenza quindi voi sarete i protagonisti sarà sicuramente Alessia che vi troverà anche in futuro e noi invece siamo qui in attesa dei vostri commenti grazie buongiorno buongiorno guardi qui questa recente notizia che cosa ne pensa della costruzione del nuovo polo ospedaliero di Padova che partirà nel 2015 noi purtroppo siamo abituati a spendere i soldi perché poi ci sono sempre dei ritorni in tasca a qualcuno specialmente Padova partiamo da lontano per quanto riguarda lo stadio il tribunale eccetera abbiamo avuto dei assessori praticamente in galera e dei sindaci che si sono dimessi l'ospedale il nuovo ospedale di Padova mi sa tanto di questo profumo perché se noi pensiamo che a Padova abbiamo un ospedale che è uno dei migliori ed è stato ristrutturato negli ultimi tempi un po' dappertutto cioè rifare un ospedale in questo momento di crisi va bene che si creerebbero posti di lavoro ma la mia preoccupazione non è tanto quella del posto di lavoro quanto di quanta gente sperpererà su questo qui anche perché noi abbiamo ancora in giro per il Veneto che dovrebbe finanziare l'ospedale altrimenti se noi andiamo in mano ai privati è ancora peggio e dopo dico il perché cioè noi ancora per il Veneto abbiamo in giro tutta quella gente che o in galera o c'è chi sta parlando c'è chi non sta parlando incontri nelle ville per dividere le mazzette se il nuovo ospedale serve a questo io dico no assolutamente anche perché l'ospedale che noi abbiamo da anni la gente parte dalla Sicilia parte dalla Puglia parte dalla Campania cioè fa chilometri e chilometri per venire in un ospedale che è stato ristrutturato e che è all'avanguardia per quanto riguarda invece la parte privata il problema è grosso perché se noi facciamo fare l'ospedale dai privati che mettono i soldi questi domani chiederanno in cambio che nelle loro strutture la gente vada lì a fare le visite a fare le analisi a fare le varie prestazioni e praticamente noi avremo dei costi maggiori e altri giri perché anche lì ci sono altri giri di soldi che escono senza un frutto vero il presidente della regione Zaia prevede vorrebbe che lo Stato finanziasse quasi l'intera costruzione dell'opera secondo lei è una cosa fattibile? ma può essere fattibile noi sappiamo benissimo che tutte le strutture che sono state fatte dalle autostrade alle cose io ripeto siccome sono assolutamente contro le mazzette che ci sono non solo in Sicilia ma in Puglia parlo della Campania per dire le regioni che ho citato prima ma ci sono maggiormente anche nel Veneto noi vediamo il caso Baita vediamo tutto ciò che riguarda la Mantovani queste qua sono tutte aziende che hanno lavorato nelle strutture regionali e che hanno portato a casa milioni e milioni di euro a livello così di mazzette oltre ai miliardi di opere che hanno fatto ripeto l'ospedale che noi abbiamo già è un ospedale funzionante un ospedale all'avanguardia e io in questo momento di crisi vedrei più aiuto alle imprese che stanno lavorando per assumere personale che costruzioni che andranno avanti anni e dopo oltre a questo le spese che si vedono in questo momento sono quelle della costruzione ma non tutto quelle delle apparecchiature che è la maggior parte della spesa che dovremmo sostenere che per adesso non sono previste come vedete qui c'è una novità prevista per Padova la costruzione del nuovo polo ospedaliero che avverrà nel 2015 che cosa ne pensate? guardi io purtroppo non sono informato riguardo questa cosa qui forse mia moglie non so potrà rispondere io la trovo una cosa favorevole primo perché è vicino all'uscita dell'autostrada con quanto è fornita della tangenziale e di conseguenza penso che spostare l'ospedale da dove è adesso sia una buona cosa adesso non so cosa ne penseranno i cittadini che magari ne vivranno lì vicino ecco questo non glielo so dire però per me è una buona cosa una cosa positiva sta leggendo dal 2015 sorgerà partiranno le costruzioni del nuovo ospedale di Padova che cosa ne pensa? beh penso che sia una cosa ben fatta però andrà avanti non so per quanti anni prima che sia 4-5 anni 4-5 anni però mi sembra che sia una spesa talmente grande per la comunità di Padova per tutti non so se non era possibile ristrutturare il vecchio e ampliare un po' il vecchio invece di fare un altro nuovo ci sarà un mix di finanziamenti tra pubblico e privato e poi il ministro cioè il presidente della regione Zaia punterebbe ad un finanziamento direttamente da Roma non so se ci sarà questo finanziamento siamo talmente messi male che tutti chiedono tutti chiedono e dopo in ultima bisogna sborsarli noi insomma ecco questo è beh speriamo bene speriamo che dopo tanti anni speriamo che questo nuovo ospedale sia sia fattibile me lo auguro insomma ecco cosa ne pensate del nuovo polo ospedaliero di Padova che partirà dal 2015 d'accordo che in caso se non sbaglio dovrebbe essere fatto vicino alle Ugane esattamente io penso sia una cosa valida perché per lo meno servirà toccanto la zona che è venuta da Cittadella pensate pensi a attraversare la città qui penso sia una cosa abbastanza valida e la invece trovo la cosa giustissima è decentrato da quello che adesso è un po' è difficile è difficoltoso non mi sta nel senso no perché anche non ci sono parcheggi scusa parcheggi qui in ospedale vecchio quindi la vede una cosa anche più più comoda per il cittadino certamente molto più comoda positiva e senz'altro senz'altro questo sì come vede qui in Veneto circolano 310.000 auto senza polizza RC beh io sicuramente per me è una cosa molto negativa perché è pericoloso soprattutto perché cioè trovare la gente che poi non corre con la stessa polizza che ti venga addosso sicuramente non ti paga poi i danni è però è una situazione contingente della situazione dell'italiana e soprattutto io credo che poi andiamo a scoprire c'è anche gente normale che non fa più l'assicurazione e che non ci arriva più a fine mese e quindi credo che sia una situazione che debba essere risolta in qualche maniera forse con un aiuto anche dalla parte dello Stato con degli sgravi fiscali degli aiuti potrebbe essere però secondo me dobbiamo risolvere il problema delle assicurazioni i cartelli delle assicurazioni perché credo che ormai sia una cosa insostenibile paghiamo le assicurazioni più care a livello europeo dietro ci sono 100.000 situazioni perché c'è anche lì le frodi sugli incidenti e quant'altro però paghiamo delle tariffe troppo elevate ci dovrebbe essere anche dei prezzi sociali questo quindi lo Stato dovrebbe intervenire per se no diventano ancora più grossi i danni poi guardi qui 310.000 auto stimate in Veneto senza assicurazione che cosa ne pensa? Purtroppo i problemi che ci sono portano certe persone a queste situazioni il problema è che anche le assicurazioni sono sempre più care invece di andare a ribasso come stanno facendo tutti loro vanno sempre al rialzo Quindi per lei una soluzione quale potrebbe essere? Ridurre ridurre un po' le polizze portarle a prezzi politici non a prezzi spaventosi come per i diciottenni la prima patente la prima macchina tutte quelle cose là insomma Eccoci qua il nuovo polo ospedaliero di Padova che verrà costruito dal 2015 che cosa ne pensi? Beh io penso che sia comunque un'opportunità giusta per Padova che comunque ha già un polo ospedaliero ampio e moltissime persone ne usufruiscono quindi penso che sia una cosa giusta una cosa utile anche alla città Poi un'altra notte dei quotidiani recente è che in Veneto 310.000 auto girano senza polizza RC tu la patente ce l'hai e quindi che cosa ne pensi? Beh io penso che se una persona si possa permettere l'auto dovrebbe permettersi anche la polizza anche per una sicurezza personale perché comunque non è che si può andare via in auto senza cioè si crea danno anche agli altri se capita un incidente quindi una soluzione per te quale potrebbe essere? Pagare la polizza Ma com'è possibile 310.000 auto senza assicurazione in Veneto? Non è per giustificare però credo che si abbassassero un po' le polizze forse la gente la pagherebbe anche più volentieri la polizza auto dopo è da condannare come comportamento però sarebbe un po' da rivedere le tariffe E quindi una soluzione per te? Mettere delle tariffe più corrette Tu che sei un giovane com'è possibile 310.000 auto senza assicurazione in Veneto? Sono tante cioè non so non so cosa possa essere successo cioè o non fanno controlli o ci sono troppi furbi cioè non so Secondo te è una soluzione possibile per superare questo problema quale potrebbe essere? Quando si compra una macchina includere magari nel prezzo dell'auto un tot per incentivare a fare l'assicurazione Eccoci qui con una signora che forse ricorderà Calimero il pulcino tutto nero che pensi fu creato da un disegnatore di cartoni animati Veneto che cosa ne pensa signora? Di Calimero? Esattamente Ricordi di quando ero bambina io quindi tutto il bene possibile perché ero tanto piccolina per cui Carosello erano bei tempi molto molto meglio di quelli che sono adesso Del fatto che comunque sia stato creato da un nostro da un bene Esatto ci fa onore Ecco Ancora una domanda come vede qui signora l'aumento dei biglietti degli autobus urbani ed extraurbani che era previsto per l'autunno è stato anticipato al 22 luglio quindi lunedì Che cosa ne pensi? Sono assolutamente perché ho lavoramento spero di non dover pagare il supplemento per dieci giorni Cosa ne penso? Penso che avrebbero fatto bene lasciare stare e vedere magari di aumentarlo il prossimo anno Se prima però fanno più controlli e vedere che tutti lo paghino il biglietto Quindi un modo per bloccare questi continui aumenti quale potrebbe essere? Fare più sorveglianza controllare di più vedrai che tutti tutti o come minimo una gran parte pagherebbe il biglietto Magari uscitarlo invece di 75 minuti farlo di 90 anche perché 75 minuti uno che magari da fuori viene in centro fa due spese e siamo risicati insomma 90 minuti va bene Buongiorno siamo qui con un titolare di una rivendita e fino a quando è che sono validi i vecchi ticket degli autobus? Allora 23 gennaio 2014 quelli vecchi che si intendono vecchi ma ancora non lo sono diventeranno vecchi dal 22 del mese prossimo di questo mese scusate non saranno più in produzione arrivano quelli nuovi ma quelli vecchi sono usufruibili sia come biglietto singolo sia come carnet fino al 23 gennaio 2014 quindi in effetti in questo periodo c'è stato un aumento consistente delle vendite sia dei biglietti singoli sia dei carnet dovuto al fatto che le persone stanno attente anche ai 10 centesimi di risparmio per ogni singolo biglietto quindi c'è stata proprio una corsa proprio alla scorta dei vecchi biglietti esatto così hanno fatto perché sanno appunto che avranno una validità di altri 6 mesi eccoci qua guarda una notizia che in pochissimi sapevano è che ricordi il calimero il pulcino tutto nero fu creato da un disegnatore veneto di cartoni animati tu lo sapevi ma assolutamente no ricordo vagamente calimero ma proprio che fosse creato da un veneto no assolutamente lo leggo ora calimero come si chiama dai fratelli Nino e Tony Pagotto no assolutamente quindi made in veneto eh bene mi fa piacere ogni tanto esportiamo qualcosa di simpatico abbiamo incontrato qui sotto al salone anche l'assessore Colasio e ci può dire che cosa ne pensa del famoso pulcino calimero che è stato creato da un disegnatore di cartoni animati veneto sì era un designer veneto beh diciamo che è un brand che ha assegnato la storia culturale di una generazione nel senso che non era chi non potesse dire non sono nero sono solo sporco diciamo che è entrato nell'immaginario collettivo di una e più generazioni è estremamente interessante che il disegnatore fosse un veneto va anche sottolineato un aspetto molto interessante oggi sarebbe inimmaginabile un apparato iconografico come questo nel senso che sarebbe poco politicamente corretto le polemiche di questi giorni fanno capire la cosa alludo è evidente che solo negli anni 50 il paese era ancora nelle condizioni di raccontarsi al di là del politicamente corretto oggi lo scenario è completamente cambiato ma va bene così ma quello che è interessante è ben altro Calimero continua a esistere nei cartoni animati cioè è diventato un oggetto non solo di culto ma anche un oggetto che negli Stati Uniti produce ancora racconto come dire è un piccolo personaggio di un disegnatore veneto che di fatto è dimostrato come una volta di più il nord est sappia essere tra virgolette internazionale beh questo era un esempio di quello che potrà essere un incontro non dico quotidiano ma settimanale con i nostri telespettatori con la gente che appunto popola le piazze di Padova che è un po' uno spaccato dell'Italia che legge i giornali che ascolta le notizie tutti i giorni e che è incalzati dalla nostra Alessia in qualche maniera rispondono alle nostre domande come avete visto ovviamente sono tutti sinceri sono parzialmente divertiti ma sicuramente impegnati nella risposta come avete potuto vedere e quindi ancora una volta il protagonista non è chi è come in questo momento noi in studio ma siete voi che veniamo a trovare ovviamente nelle piazze noi vi aspettiamo a settembre per questo nuovo ciclo di incontri con la gente che il caffè 24 ha deciso di perpretare almeno in tutta la stagione autunno-inverno 2013 buona visione aspettateci ciao ciao